Ciao, buongiorno, eccoci nuovamente insieme per un altro appuntamento dedicato alla musica. Sono andata nuovamente negli archivi per cercare qualche vinile che possa domani magari così tenerci compagnia, come sempre a partire dalle ore 9. E allora ho pensato di cercare delle donne che ancora una volta potessero tenerci compagnia. E così ho trovato lei, Victor Laszlo, poi ho trovato Amy Grant e infine Gloria Estefan. Beh, diciamo che qualcuna più o meno famosa, qualcuna magari è ancora da, diciamo così, ricordare perché non ce la ricordiamo più, ma sicuramente saranno grandi brani musicali che passeremo domani. Quindi io vi aspetto, come sempre, mi raccomando a partire dalle ore 9 e spero che, insomma, ancora una volta sarete in tanti per parlare di musica, per chiacchierare con me, darmi suggerimenti, magari dirmi anche qualcosa in più su queste grandi artiste internazionali. Vi aspetto, mi raccomando, domani alle ore 9. Ciao! Ciao! Ciao!